D'accordo? Ok Allora Uno step in meno Vi ho fatto vedere le risorse, no? Per le insegnanze, no? Poi c'è il famoso ZTE Che sarebbe questo qui Allora Clicco Si apre il mini sito Dello ZTE Vedete? Lo ZTE Giusto per renderlo per l'ennesima volta È il sito per fare i testi interattivi E ovviamente Ce n'è per tutti i gusti In questo caso c'è l'inglese Ma Se io Adesso faccio di nuovo il login Perché sennò Non mi accenderà mai Ma c'è lì Mi chiedete? Buonissimo Bravo Materi Ah, perché lo potessi direttamente dal libro Sì, lo prendessi dal visito Ok Questo è generale Materie E qui ci sono genente Tutte le materie Ok Vediamo ad esempio La T La T Prende un po' in conca Non scontentare nessuno Ma è Allora Il libro di latino Automaticamente Qua sotto Vedete C'è la batteria di allenamento E la batteria di test Qual è la differenza? L'allenamento Serve al ragazzo Non solo Ma gli dà anche la possibilità Di autocorreggersi Facciamo subito un esempio All'altro Ho fatto di ciò scientifico Ma l'applauso Non ricordo proprio nulla Quindi Danno proprio risposte Non a tua casa Ho detto proprio tra lì Ho messo le risposte Conferma Posto Le ho sbagliate Perché hai detto Ritenta Ti dà La possibilità Di farti ragionare E ti dà Altri due tentativi Voi definiamo questo Bene Uno ho preso Un altro tentativo Tiene Al terzo tentativo È l'unità Sui chimiche Per questo è allenamento Vai e ti dà anche Il grado di difficoltà Vai all'esercizio successivo Non so cosa vuoi Io faccio Non so cosa vuoi Fai Test Non è corretto Non è corretto Non è corretto Ok Mettiamo Conferma Non sbagliato tutto Perché a caso Non è chiaro Questo Conferma Non sbagliato tutto È la stessa cosa Può Anzi Può andare avanti Non va bene Questo Non va bene Soltiamo questa Un tentativo Un tentativo Un tentativo Un tentativo Niente Ho sbagliato E gli dà la spiegazione Questo è l'allenamento Che volendo No Rimani su una pagina Che volendo Uno può dargli Come È conto a casa Anche Si Allora Il ragazzo Lo può fare Anche se non c'è La classe virtuale Nel senso Che il ragazzo Ha la possibilità Registrando sempre Il proprio libro Di poter andare Sulla ZTE E esercitarsi Se eventualmente Avessi avuto La classe virtuale Si può Automaticamente Farà l'allenamento E il risultato Poi vi arriva comunque Qual è il vantaggio Il vantaggio Che vi dice A che ora L'ha fatto Quante volte L'ha fatto Perché l'ha fatto Se Per ogni domanda Ci ha provato E lì a volte Se l'ha fatto In dieci minuti In mezz'ora Quindi uno capisce Se l'ha fatto Come si dice A tirardia Perché lo dobbiamo fare Oppure c'è un minimo ragionamento Se no C'è il test Vero e proprio Che è tipo La prova di verifica Sforgi Questo è solo noi docenti Su questo caso Come? Solo noi docenti No No Teoricamente Questo è più per i vostri ragazzi Che per i docenti Cioè Sempre per farvi allenare Stai assenti Stai assenti o no? No No Ma io ho capito Perché lui ha fatto Questa domanda Perché il test Io ho detto Che è tipo Prova di verifica E quindi E quindi Se è tornato Per voi È Teoricamente Se dentro 60 minuti Non dà la risposta Il programma Si chiude E te non è che Mentre vai a consegnare Il foglio al troppo Vai Capisola Manca questa E nel frattempo Mentre ho fatto Quattro passi Ne ho consegnato Ho fatto tre risposte A caso Finito il tempo È finito il tempo Lì non è che Si può dare Un minuto canonico Non lo so Quando andavo a scuola Io si usava Che quando dovevo consegnare All'ultimo Facevo tre risposte Non so se ancora Lo fanno Ma prima guardano Le foglie degli altri Però Tanto che Camino Non guardano Le foglie di quell'altro Però Lo sforzo pure è quello De fare Le foglie No Perché Camino Ziguezai Non accetto ную informazione defect Allora facciamo una cosa Vediamo qua la cametà Sì Non si sa Grazie Grazie Grazie